Musica Che lo sappiate o no? No, la chimica riveste un ruolo sempre più importante nella vita di tutti i giorni. Uno dei composti chimici più comuni e diffusi è l'ossido di zinco. Questo poliziotto, questo agricoltore e questa massaia non se ne rendono conto, ma dipendono dall'ossido di zinco in molti momenti della loro giornata. Ma a che cacchio serve quest'ossido qua? Se non ci fosse l'ossido di zinco, tu non avresti quel pezzo di sapone. Gli strofinacci per i piatti. Il tuo tostapane. Il tuo reggipetto. Il lavandino di cucina. Le tendine. Gli scomparti del frigorifero. I ganci di metallo. Il regolatore del gas. La sicura nel fuggile di tuo figlio. L'estintore. Il freno d'emergenza nell'attuale. Tutti i freni. La tovaglia. La sabbia antifuoco. Da dove vai? Anche la sabbia. Il pacemaker di tuo marino. La tua gamba artificiale. Sì, l'ossido di zinco è presente nella vita di tutti i giorni. E non perdete il nostro documentario numero 7 come ricostruire la vostra casa. Grazie. Grazie. Grazie.